Impeccabile invece Gustav Töni, l'altoasesino, va a cogliere proprio in discesa punti decisivi di Coppa dell'Università della Velocità, non so di mister Töni che è consigliato e sono sempre attrezzato, non com'è 60 anni per niente Ehi, Marco, una pelana? Ehi, una pelana? Ah, non ti parla, non è insieme, è proprio l'altoleon, non è una strattaforma La napoleon, oh, buona pelana napoleon, va a pari bello Anche roba, anche roba Anche roba